E' finita, abbiamo l'ufficialità, è stato un parto ma alla fine è partita, il Milan ha acquistato Reinders, quanto è durato? Reinders al Milan ragazzi quanto è durato? Quanto ci abbiamo messo prima di capire, di vedere Reinders al Milan? Abbiamo messo due mesi, però ce l'hanno fatta, ci stava, era giusto, era una trattativa su cui si doveva lavorare, nel senso non prendiamoci per il culo, non è che possiamo metterci lì a dire no vabbè il Milan doveva sbrigarsi, no ha fatto bene, ci ha lavorato, ha cercato di risparmiare il più possibile, poi non è che ci sia riuscito molto bene perché poi la Zed chiedeva un sacco di soldi e non voleva ovviamente perdere il proprio gioiello per due spicci, però alla fine è fatta, Reinders è un nuovo giocatore del Milan Le cifre che vado a leggere direttamente da Sky sono di 19 milioni di euro più 4 di bonus, quindi vi posso dire manco troppo male perché all'inizio mi ricordo che la Zed voleva 25 subito, il Milan era partito da 15, alla fine comunque rimane sotto i 20 milioni di parte fissa e di parte variabile, comunque la parte variabile verrà concretizzata solo e soltanto quando il calciatore inizierà a rodare con il Milan e per me questo è un grande acquisto, ma andiamo per gradi, prima di iniziare vi ricordo che se volete il quarto di finale di Tiki Takato dovete lasciare almeno 480.000 iscritti quindi dovete semplicemente trasformare questo numero in 480.000 e allora andremo a portarvi Tiki Takato detto questo chi è Reinders? Ve lo spiego io, un pochino l'avrete visto, un pochino l'avrete valutato ma ve lo spiego molto volentieri classe 98 quindi 24 anni, cioè è un giovane, è un giovane, sì chiaramente i giovani sono quelli di 18 anni oggi ma 24 anni ragazzi è un giovane da noi 24 anni se fosse italiano sarebbe ancora in culla praticamente, sarebbe ancora in fasce cioè noi praticamente i giovani proprio non sappiamo cosa sono, 24 anni è un giovane, è bravo, non è ancora nel giro della nazionale questa cosa la dobbiamo sottolineare, cioè nel senso magari lo è nel giro ma non è centrale nella nazionale lo diventerà via via, lo diventerà passo passo, però una cosa per volta ci si arriva, è un centrocampista che può giocare da mediano e che può giocare da trequartista, cioè quindi ti garantisce in mezzo al campo anche una duttilità a mio avviso non indifferente aggiungo anche un'altra cosa, che con l'addio di Tonali, che con l'arrivo di un giocatore come Loftus Cic che con l'infortunio di Ben Naser, che con la mancata conferma al tempo di Frank Cassie i rossoneri avevano necessariamente bisogno di andare a prendere un centrocampista che potesse fare tutto come faceva tutto Cassie, perché Cassie che tu lo mettevi mediano ti faceva il mediano che tu lo facevi impostare ti cercava di impostare che tu lo mettevi a fare il giocatore di rottura ti faceva il giocatore di rottura che tu lo mettevi in mezzala ti faceva la mezzala che tu lo mettevi trequartista ti faceva il trequartista ecco, Cassie era diventato un giocatore totale e Reinders ha quelle capacità lì Reinders ha quelle qualità lì è un giocatore che dovrà ancora sbocciare dovrà prendere in mano il suo destino deve avere più palle di De Ketelare deve avere tante più palle di De Ketelare perché come per De Ketelare anche Reinders è un giocatore che ha girato poco sta alla Z da sei anni cioè quindi lì praticamente lui aveva il suo porto sicuro stava tranquillo era lì stiamo a posto sei anni e va bene così però chiaramente adesso che vai al Milan che vai a gioarti la Champions League da protagonista che comunque fai un grande passo in avanti che la storia del Milan ti obbliga comunque a puntare a fare meglio possibile al Milan e non a navigare a vista a provare magari a vincere anche lo scudetto ecco secondo me questo è un giocatore che adesso dovrà prendere in mano la propria carriera e dovrà dire io sono forte io valgo questo tra l'altro ragazzi quest'anno la Z io penso abbia venduto anche la madre ha venduto già Beukema sta per cedere Kupeminer Junior cioè il fratello di quello che conosciamo noi sta per cedere Carson sul mercato c'è anche Pavlidis sul mercato insomma se ne parla Kerkez è un altro cioè la Z sta tirando fuori una marea di talenti ma non ne tiene uno non ne tiene uno non ne tiene uno vanno tutti via l'ultima stagione ha fatto benissimo Reinders nonostante sia un centrocampista comunque ha fatto 7 gol e 12 assist che diventano meno se vediamo le partite giocate perché ha giocato 54 partite in un anno cioè veramente qualcosa di assurdo che magari può risultare come meno altisonante il fatto che abbia fatto 7 gol e 12 assist perché ne ha giocate veramente tante vuol dire che anche se ha sparpagliato i gol e gli assist uno per partita comunque 19 partite ha fatto questo le altre 39 49 le altre 35 non ha fatto nulla però secondo me invece essendo un centrocampista e non c'è bisogno di chiedergli per forza l'assist per forza il gol il fatto che abbia giocato 54 partite è un dettaglio positivo non negativo positivo perché significa che i rossoneri hanno trovato uno stacano vista c'è uno di quei giocatori che tu ti serve e lo metti ti serve e lo metti quante partite fa il Milan nell'anno ne fa 38 in campionato almeno 6 in Champions League e gli auguro di farne 12 però almeno 6 in Champions League ne fa almeno una in Coppa Italia ed è una stagione fallimentare questa è una stagione fallimentare quindi se tu mi vai a fare 38 sono 40 39 41 42 43 45 partite se tu mi fai 45 partite e hai fatto una stagione fallimentare ma lui te le può coprire tranquillamente c'è un giocatore che ha quella quella continuità fisica importante l'anno prima l'anno prima è un altro ha fatto 6 gol e 2 asis però comunque ha fatto 47 gare che sarebbero comunque più di 45 partite minimo che farà il Milan quest'anno cioè questo vi fa capire che questo è l'elemento fondamentale di Reinders secondo me il Milan i tifosi del Milan devono essere molto contenti a parte per le qualità a parte perché secondo me questo ragazzi è un altro coupe minor cioè il Milan sta prendendo un calciatore veramente veramente forte io nel frattempo mi apro un pochino il coso qua sto a morire gallo il Milan è un altro giocatore veramente veramente forte ma la grande potenza potrebbe davvero essere il fatto che sia stacanovista il fatto che sia stacanovista il fatto che non smetta mai di giocare e poi voglio aggiungere anche un'altra cosa che prima lui girava veramente tanto in campo cioè se andiamo a vedere i ruoli fatti negli anni precedenti lui comunque in carriera ha giocato da mezzala ha giocato da mediano ha giocato da trequartista ha giocato esterno destro in un centrocampo quindi da quinto o quarto di centrocampo con una difesa tre o così con una difesa tre quindi a tutta fascia ha giocato davanti alla destra nei tre d'attacchi e dalla sinistra adesso invece 54 gare l'ultimo anno 53 le ha fatte da mezzala quindi secondo me è importante che i calciatori io lo dico sempre questa cosa cioè è buono quando i calciatori sono duttili no? perché comunque ti garantiscono una una tranquillità se ti manca un determinato giocatore in un ruolo del campo però fino a un certo punto chi sa fa tutto discretamente bene non sa fa niente bene e non è una cosa che mi piace personalmente non è una cosa che ritengo bella cioè per quanto mi riguarda è bello che un calciatore sappia fare benissimo una cosa poi ah oh se mi servono in un altro ruolo ti posso anche mettere in un altro ruolo però mi devi saper fare benissimo una cosa ecco per me questo è fondamentale e il Reinders questa cosa la sta sbloccando anche se poi se dobbiamo essersi essersi sinceri non è proprio il ruolo che serve al Milan a meno che Stefano Pioli non decida di fare il 4-3-3 che vi posso dire sarebbe anche abbastanza logico nel senso che quando torna Benazer lo metti in mediana con le mezzali Loftus-Cic e il Reinders davanti di giochi con Pulisic a destra quindi lo metti dall'altra parte Leao a sinistra e Giroud che punta ecco per me ha fatto la squadra io credo che il Milan continuerà a puntare sul 4-2-3-1 però secondo me i giocatori che sta prendendo sono più da 4-3-3 cioè comunque da mediano e due mezzali Loftus-Cic mi sembra più una mezzala a me Reinders comunque più una mezzala certo dovrà adattarsi anche se poi vi dico la verità tanti calciatori che hanno giocato nel centrocampo a due del Milan nella doppia mediana non sono mediani perché poi se c'è vicino il mediano cioè quello che sta fermo quello che fa praticamente scherma davanti la difesa l'altro si sgancia licenza di offendere licenza di attaccare la licenza di di farsi vedere di muoversi di tagliare di inserirsi fare le incursioni ecco quindi sotto questo punto di vista secondo me non peserà poi così tanto a Reinders giocare nella mediana a due del Milan però vi ripeto a me sembra molto più una squadra da 4-3-3 questa che stanno costruendo rispetto a quella da 4-2-3-1 ora ve l'ho detto ha fatto tante gare da mezzala lui è un giocatore non è veloce o almeno non arriva veloce poi vedremo perché poi voi quando lo vedete mi dite la zicca ma non era veloce se questo arriva e comincia a fare furia cavallo del West io non lo so però sulla carta non è veloce ma è tanto tecnico ma è tanto tecnico e ha una visione di gioco davvero importante cioè lui ho visto anche dei video se vi va poi possiamo fare anche una reaction di Reinders questa cosa possiamo farla se vuoi se vuoi se volete Reinders è un giocatore che coglie alla cieca gli inserimenti dei compagni che questa è una cosa che secondo me va sottolineata e sottolineata un altro aspetto anzi un aspetto negativo visto che stiamo facendo aspetti positivi ad eccezioni di qualcuno un aspetto negativo è che pesa quanto uno straccio bagnato cioè pesa quanto il mio braccio destro praticamente pesa un cazzo ragazzi e questo un pochino mi spaventa perché secondo me deve mettere tanta massa muscolare sapete in Italia chi è che arrivava con tante qualità allora premessa premessa sto facendo un esempio a un giocatore che è la metà della metà della metà di Reinders perché per me Reinders è già pronto però deve mettere massa muscolare mi viene un pochino in mente termini ovviamente ridotti Marcos Antonio cioè Marcos Antonio tecnicamente quello della Lazio e ve lo dico io Marcos Antonio secondo me tecnicamente è veramente tanto forte però ragazzi Marcos Antonio pesa quanto mi nipote le due anni e mezzo cioè lo vedete praticamente se da così se mette De Profilo è come a mano mia cioè in 2D riesci a vedere orecchio orecchio di dietro e questo è un problema perché in Serie A ti danno una spallata ti buttano in porta fai gol con il tuo corpo ma non fai gol con la palla e poi come vedete Marcos Antonio ce l'ha avuto su Expluat ha fatto un gol mi pare col Sassuolo non mi ricordo ma forse con lo Spezia proprio ha spaccato qualunque cosa ha dribblato tutti però poi fisicamente un pochino ne risente e secondo me in un campionato come quello olandese Reinders proprio sapete che Vordi faceva Ermaranza in Serie A deve mettere un po' di massa muscolare non tanta perché se no rovina poi tutto il resto cioè rovina magari la qualità perde in lucidità quindi non tantissimo però un pochino un pochino di massa muscolare a mio avviso la deve mettere recupera tantissimi palloni tantissimi 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 palloni e soprattutto voglio riandare a prendere il discorso di prima come giocava la Zed voglio vedere se avete visto il video fino a qua come giocava la Zed con che sistema di gioco giocava la Zed lo sapete? la Zed giocava con il 4-2-3-1 Sik ma dove giocava Reinders si è detto che faceva la mezzala sapete che mezzala faceva Reinders ragazzi? la mezzala nel doppio mediano c'era un mediano e c'era Reinders Reinders si sganciava il mediano si accentrava il trequartista si abbassava quindi diventava un 4-3-3 quel 4-2-3-1 con i due trequartisti che si alzavano ad ali però partiva dal doppio mediano ed è per questo che secondo me sulla carta come vi dicevo poc'anzi sì il Milan sta facendo comunque a livello di nome 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 giocatori da 4-3-3 però è un 4-2-3-1 che diventa cioè ormai nel 2023 non mi viene ancora da pensare che i sistemi di gioco siano bloccati impallati fermi lì ormai nel 2023 si parte 4-2-3-1 cioè si sposta magari con il mediano che una volta il mediano si abbassa diventa 3 i due esterni si arsano le ali si abbassano poi quello si incrocia e poi cambiano continuamente i moduli e quindi per questo secondo me è super adatto al Milan non so se adatta la mediana con l'Oftus-Cic questo non lo so con tra l'altro Pulisic sulla trequarti questo non lo so perché comunque mi sembra che la squadra sia molto sbilanciata in avanti cioè Reinders è un giocatore offensivo non so se si giochi nei due di mediano è un giocatore offensivo l'Oftus-Cic non è offensivo però non è manco Casemiro un po' più difensivo di Reinders lo è ma non è manco Casemiro non le riesce a legge un centrocampo da solo Pulisic da trequartista non fa la fase difensiva se tu ti la prendi Ciukueze non fa la fase difensiva cioè quindi questa è una cosa che andrà valutata per quello vi dicevo forse è più adatto un 4-3-3 però secondo me però secondo me tra l'altro una cosa che ho notato tanto e questo rende Reinders un giocatore adatto nei due di mediana però per fare la mezzala è che lui ha le palle agli attributi di andare a romperti la linea poi recuperarti il pallone in cattiveria e uscire palla al piede cioè lui in disimpegno non è uno di quei giocatori che in disimpegno prende il pallone e te lo fionda via perché non sa che farci lui è un giocatore che ha le palle di uscire a testa alta di andare a creare la superiorità numerica perché ti ha appena strappato il pallone all'attaccante alzare lo sguardo e andare immediatamente in verticale con la visione di gioco per vedere l'inserimento del compagno questa secondo me nel nostro calcio dove questa cosa serve tantissimo creando di superiorità è una caratteristica d'elite quando tornerà Benazer secondo me il Milan avrà uno dei centrocampi più forti di Italia certo hanno perso tanto con Tonali cioè ora io non sono qui a dirvi che Reinders è già migliore di Tonali non sono qui a dirvi che Loftus Cic è già migliore di Tonali però tra un anno niente mi dice che Tonali non possa aver flopato al Newcastle e Reinders valere 100 milioni per me è assolutamente fattibile mi viene in mente il Milan sempre che aveva Donnarumma ha preso Maignan Maignan ha superato Donnarumma in un anno cioè quindi per me è assolutamente fattibile molto dipenderà poi da come il calciatore si integrerà in un determinato sistema di gioco per quanto riguarda il Milan però poi per il resto insomma secondo me secondo me è un acquisto top tra l'altro prende anche molto poco perché stavo leggendo che prenderà meno di 2 milioni di euro l'anno precisamente 1.7 cioè una cifra comunque bassa una cifra molto bassa secondo me per un calciatore che sarà il titolare del Milan che quindi sempre seguendo il sistema Moneyball quindi prende un calciatore lo pago poco ma lui è già pronto però è giovane e quindi lo pago lo pago poco lo pago abbastanza ma non tanto quindi 20-25 milioni lo rivende a 70 tra un anno due anni con quei soldi ci compra altri tre giocatori e poi aumenti perché il primo anno magari spendevi 10 e vendevi a 40 il secondo anno ne prendi due da 20 e li vendi a 70 il terzo anno ne prendi due da 30 e li vendi a 100 il quarto anno ne prendi due da 50 e ne vendi a 150 e così facendo l'idea è quella di arrivare al top però facendo compra vendita che vi posso dire ora darà facile ai tifosi del Milan perché così facendo non puoi mai affezionarti ai giocatori però in un tal senso a mio avviso paga e anche tanto voto al colpo Reinders al momento 8 vediamo poi quello che fa ma al momento mi sento di dare un 8 credo che sia un voto abbastanza alto ma che comunque l'acquisto del Milan per come l'ha fatto per le cifre per lo stipendio e tutto quanto per come il Milan sta costruendo la squadra per me voto 8 è assolutamente meritato vi diciamo faccio una disamina rapidissima anche sul fantacalcio per quanto riguarda il fantacalcio è da prendere sì allora 1,2,3,4,5,6,7,8 primo slot no secondo slot no terzo slot forse ancora no quarto slot sì cioè non guardate guardate gli slot come divisi per 8 terzo quarto slot Reinders perché comunque ti garantisce degli assist perché comunque un paio di gol te li può fare cioè è un giocatore che secondo me tu prendi che so ti fai un centrocampo ti prendi come primo slot che cazzo Cavaraschkelia come secondo slot Felipe Anderson come terzo Reinders va bene secondo me secondo me sì se magari invece che Felipe Anderson come secondo slot hai preso Coopminer che fa una tripletta ogni 5 partite poi ogni 20 partite fa una tripletta ogni 15 partite e quindi a fine anno chiude con 8 allora magari prendilo come quarto slot Reinders come terzo in quel caso magari mi vai a prendere un un miranciuk diciamo però comunque come terzo barra quarto degli 8 secondo me Reinders ci può assolutamente stare perché ha dimostrato di essere anche prolifico e quindi portarvi qualche bonus fatemi sapere il vostro punto di vista qua sotto iscrivetevi al canale tantissimi mi piace vuocelo all'alene come sempre ci vediamo un prossimo video Alla prossimo video Grazie a tutti.